Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Un festival che ha conquistato, tenendo incollati allo schermo milioni e milioni di telespettatori. Amadeis, il co-conduttore Gianni Morandi e tutte le grandi donne che si sono susseguite nelle varie serata, al timone della Kermess, hanno fatto un lavoro impeccabile. Eppure le polemiche non sono mancate, proprio come quella manifestata via social da Adriano Celentano. Vediamo cosa ha dichiarato in quanto si tratta di un duro affondo. Anche stamattina, come al solito, ho letto i giornali. Ora è certo, non potrò più tornare in televisione. Queste le parole postate da Adriano Celentano sul suo profilo Instagram. Il molleggiato, pur no scrivendolo espressamente, fa riferimento alle polemiche sul festival appena terminato. L'ex ragazzo della Via Glac non potrà più portare le sue provocazioni sul palco o in studio. E voi? Cosa ne pensate? Credete che Adriano Celentano abbia ragione? Se volete, diteci la vostra.